prefi radio sono giulia bianconi dalla 42esima edizione del torino film festival con grande piacere e onore diamo benvenuto a giancarlo giannini siamo in diretta siamo in diretta siamo in diretta poi anche dopo si potrà vedere la nostra chiacchierata si uniscono i mezzi voce e volto insieme dai cosa vuoi sapere che cosa non le hanno mai chiesto adesso prima di iniziare mi diceva chiesto tutto tutto nello voglio che non mi chiedano più niente e perché come si fa non chiedere nulla a giancarlo giannini come si fa non chiedere più nulla a giancarlo giannini una cosa un po diversa e non è semplice però fare una domanda diversa a giancarlo giannini se c'è un cane le piacciono agli animali più del cinema le piace più il cibo del cinema visto che prima il problema è che sono molto triste perché non ci sono più i sapori di una volta tutto lì quindi cercare avere di mangiare le cose buone quelle che mi faceva mia nonna purtroppo non ci sono più la cosa mi rende molto triste però per esempio se vado nel sud dell'italia certe verdure certi pomodori eccetera si ritrovano ancora con un sapore che si avvicina a quello autentico cioè prima parlavo della semplicità no anche quella è semplice no fare un bel piatto di spaghetti io lo chiedo sempre in qualunque posto dell'italia la prima cosa spaghetti al pomodoro voglio capire se lo fanno bene se lo fanno male se lo fanno bene è difficile farlo però se hai gli ingredienti buoni è un piacere che non ti tradisce mancano gli spaghetti al pomodoro anche nel cinema ora riprendo quello che stava dicendo prima ma mi sembra di sì si fa è più che altro minestrone ma anche quello è difficile saperlo fare beh oggi ma l'ho detto prima insomma poi non lo so a me il cinema i capolavori lo sta già sono stati fatti bellissimi sono lì io che poi insegno anche al centro sperimentale e lì ci sono tutte le varie arti la regia le cose oggi per esempio un attore può vedere tutti i film del dall'inizio è un regista lo stesso dall'inizio fino ad oggi e imparare per esempio può vedere tutti gli attori che hanno preso un oscar tutte le attrici che hanno preso un oscar guardate le studio tele le cose vedi quante cose noi non ci avevamo questa possibilità dovevamo inventarci un modo ma anche inventare il modo di far l'attore divertente perché è scatenare la fantasia quello che dicevo prima quello che si è perso proprio oggi è la semplicità e la fantasia cavolo ragazzi la fantasia il tuo cervello è importantissimo deve spaziare a 360 gradi deve andare nell'universo deve andare dappertutto le cose il computer è scemo se non lo informi quello non ti risponde saprà fare le operazioni più in più in modo più veloce di di noi anche di dieci scienziati messi insieme ma che importanza l'importanza è avere una una un problema di voler sapere tutto ciò che non c'è che ti che è il dubbio ecco avere dei dubbi nella vita la verità non la conosce nessuno così come la conosce al cinema come conoscere la scienza così come non si conosce la medicina certo sono stati fatti dei lunghi passi importanti e ti parla uno che ha fatto degli studi scientifici non umanistici e quindi sa cosa vuol dire anzi più di essere un autore sono un perito elettronico industriale poi ho studiato l'attore attraverso l'elettronica non mi chiedere come ho fatto perché sarebbe troppo lungo quindi cerchiamo invece di vivere accontentandoci di quello che abbiamo e di non aver paura né dell'intelligenza artificiale di tutte queste cose l'intelligenza artificiale poi diceva io ho paura dell'intelligenza artificiale che viene a pensare come penso io ma quante persone ha incontrato che sono contrarie a quello che pensi tu quindi quando un apparecchio ti parla come quella persona usa le stesse armi che usi con quella persona hai capito il concetto quindi siamo siamo pronti a combattere cosa a perdere quando prima diceva gli attori anche allora guardavano altri attori per cogliermene per coglierle alcuni elementi gli attori di oggi cosa possono imparare da giancarlo siano guardando finché ha fatto lei no da me non lo so non parliamo di me si parla di l'attore c'ha sempre ripara molto bene ormai un libro che conoscono tutti il lavoro dell'attore di stanislaschi stanislaschi parla di un quid che la capacità di uno di comunicare comunicare è un qualcosa che uno ha ora è come se un imbolo come un baco da seta che sta dentro la sua cosa che amanda energia alcuni attori ce l'hanno altri non ce l'hanno se non ce l'hai tra poi la puoi studiare cercare di capire qual è meglio se nasci con questa capacità che poi è la famosa comunicativa o la diciamo la dialettica che nasce tra i grandi filosofi platone aristotele quando si trovavano dentro la sauna si sono guardati il primo giorno il secondo giorno si guardava nel terzo giorno hanno detto perché non parliamo un po e da lì nasce la dialettica la comunicazione l'attore fa la stessa cosa sul palcoscenico c'è un pubblico che aspetta che qualcuno li racconti addirittura una favola pensa un po a così dietro hai un grande autore che può essere shakespeare che può essere pirandello che ha scritto delle cose bellissime l'attore invece è proprio un piccolo ponte che racconta chi c'ha dietro ci racconti shakespeare ora cosa pensa quant'è visto così come facile in genere sono complichi diventa difficilissimo hai capito no però non fa niente spero di aver capito sono arrivata a un'età in cui penso di aver capito qualcosa grazie a giancarlo giannini che è stato con noi stella della mole 42esimo torino film festival accolto dal pubblico ieri con una standing ovation la grande amore da parte del pubblico si vede che l'ho fatto divertire insomma glielo raccontato sono riuscita a comunicare un po di più con lui più forse più di altri non lo so ma però lo sono io che dico sei bravo me lo dicono loro io sto zitto grazie giù le bianconi per fred dal torino film festival edizione 42 grazie a tutti